In Italia sempre più donne e giovani puntano sulla cultura per fare business. Sul totale delle aziende esistenti nel paese, come mostra un'analisi di Union Camere e Centro Studi Tagliacarne, una su quattro è un'impresa al femminile, mentre una su dieci è guidata da under 35. In entrambi i casi il peso percentuale di donne e giovani è maggiore rispetto al totale delle aziende italiane, in cui le imprese femminili valgono da sole più del 22% del totale e quelle giovanili quasi il 9%. Hanno invece un'incidenza minore, ma comunque non trascurabile, le imprese guidate da stranieri, che costituiscono oltre il 5% del totale del comparto. È incoraggiante anche il ritmo di crescita delle imprese culturali nel 2022, più 2% rispetto all'anno precedente, ancora di più quello delle imprese giovanili, con un aumento pari quasi al 3% e 600 imprese in più. Cresce anche la partecipazione degli stranieri, mentre è inferiore alla media l'aumento di quelle femminili. Tra i settori a beneficiare maggiormente di questo andamento positivo sono soprattutto l'architettura e il design, mentre l'editoria e la stampa perdono colpi.